Si chiama Yachiao di Pai Taiwan, è un bellissimo ragazzo che stava tornando a casa in aereo dopo aver perso il lavoro. Così dopo aver scambiato due chiacchiere con la ragazza vicina a lui, è iniziata la turbolenza e i due ci sono stretti la mano e non se la sono più lasciata. In buona sostanza lui, Yachiao e quella ragazza si sono fidanzati in aereo durante la turbolenza, chiamatelo strano scherzo del destino, chiamatelo gioco, chiamatelo come caspita volete voi, una stretta di mano che è durata in maniera intensa e che ha creato l'amore tra i due. Complice l'aereo, un aereo bello da vedere, un aereo che ha regalato emozioni, fascino e piacere a questi due ragazzi che si sono fidanzati. Incredibile ma fottutamente vero, ripeto nuovamente. Bene, complimenti dunque a Yachiao, il video termina qua, datemi le vostre opinioni, mi raccomando, ci tendo ad averle, un saluto caro da Leandro, da Leandro Italia.